Alternanza scuola-lavoro, che cosa rappresenta per Confindustria e quale sfida per i ragazzi? L'alternanza scuola-lavoro è l'alleanza tra le aziende e gli istituti scolastici. È il momento in cui possiamo dare la possibilità ai ragazzi di conoscere la realtà aziendale, non come ingresso nel mondo del lavoro, ma come altro metodo di insegnamento. I ragazzi vengono nelle aziende per imparare, l'azienda aiuta la scuola a passare le informazioni. Gli insegnanti che sono i tutor di questi ragazzi riescono a fare squadra con le aziende in modo che i ragazzi possano capire quale potrebbe essere il proprio futuro, non soltanto vedere come si lavora, ma quale potrebbe essere la sua situazione da cresciuto. Ci sono dei punti focali su questo progetto? Assolutamente sì, il punto focale è quello di passare non soltanto delle lezioni teoriche, ma far vedere sul campo i ragazzi come si possa insegnare anche con il saper fare e che i ragazzi possono prepararsi a scuola, ma comunque imparare nel momento del lavoro, imparare da chi ha esperienza sul campo, è un modo molto particolare. È anche uno scambio tra quello che i loro professori sono riusciti a trasferire ai ragazzi e quello che l'imprenditore, il capo di settore, il dirigente possono passare ai ragazzi sul campo. C'è anche una valutazione di merito, sul merito di fatto? Ci sarà una valutazione perché comunque il tutor passerà tutte le informazioni che ha sul ragazzo, passerà all'insegnante come il ragazzo si è comportato sul campo. Le svelo che i ragazzi sono stati bravissimi, per cui tutti i tutor aziendali sono stati molto entusiasti di come hanno reagito inseriti sul campo e di come hanno prodotto messi a lavorare. Grazie.